Buonasera a tutti, benvenuti a questa terza ed ultima lezione dell'Università d'Estate 2018 sull'intelligence. Come sempre ho il piacere di portare il saluto dell'Amministrazione Comunale di Soledì Amannelli e la testimonianza della città che apprezza e riconosce in queste iniziative del Professore Mario Caligiuri la sua fatica e il suo impegno che dimostrano in modo inconfutabile direi il suo grande e infaticabile attaccamento alla sua e nostra città. Saluto con profondo rispetto, dandogli il benvenuto della città, il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Onorevole Angelo Tofalo, impegnato in questo importante e delicato incarico dal 13 giugno del 2018. Soverea Amannelli lo accoglie con gli auguri di un proficuo lavoro, i ringraziamenti di essere con noi questa sera e con un coloroso applauso che vi invito a tributare. Doveva essere con noi anche stasera il Professor Roberto Guarasci, Direttore del Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione e componente del Senato Accademico dell'Università della Calabria, però per un problema, per un contrattempo insorto da poco, porge le sue scuse e non sarà con noi. Saluto tutte le autorità presenti in sala, gli studenti intervenuti anche la fuoriregione per l'interesse evidentemente suscitato da questa elezione e tutti gli appassionati che hanno fatto chilometri per non perdere questo appuntamento. Saluto e ringrazio quindi tutti quelli che hanno collaborato per il buon esito della seconda edizione dell'Università d'Estate sull'intelligence a Soveria Mannelli, la Rubettina Editore, la Fondazione Italia Domani, la Proloco di Soveria con il suo Presidente Antonio Ferrante, l'Associazione Fiore di Lino con Antonio Bruzzese Presidente, Liberi TV con il suo Presidente Riccardo Cristiano e il Radio Radicale che hanno sempre garantito le riprese di tutti gli eventi. Io non posso prendere altro tempo, quindi per finire vorrei condividere con voi il fatto che come Sindaco non posso che essere fiero della mia città, una città di soli 3 mila abitanti che organizza eventi così rilevanti, sono certo che non solo sono manifestazioni di intenti o fine a se stesse, ma dietro, come a tutti noto, ci sono azioni reali, concrete, come quelle dell'istituzione di un nuovo corso di laurea presso l'Unical, quello appunto sull'intelligence, che sicuramente porteranno lustro, occupazione e sviluppo alla nostra regione. Buona serata e mi auguro che ognuno di noi possa tornare a casa con un bagaglio di conoscenze più ricco e interessante da meditare e conservare e vi ringrazio. Passo la parola al Professore Caligiuri che introduce l'Onorevole Angelo Topolo. Signor Sindaco della città Leonardo Sirianni, grazie per l'affettuoso saluto, signor Sottosegretario Onorevole Angelo Topolo, ben ritornato a Soveria Mannelli, signor Capitano della Compagnia di Soveria Mannelli dei Carabinieri Zangla, signor Colonnello Venturen, signor Colonnello Alessandro Ferrara della Presidenza del Consiglio dei Ministri, signor Professor Mario Caterini dell'Università della Calabria, signor Dottor Giuseppe Gabriele, consigliere comunale di Soveria Mannelli, autore da gentili signori e cari signori. Grazie per essere qua. Il web è un campo di battaglia, dal punto di vista politico e nessuno lo sa meglio dei 5 Stelle, dal punto di vista economico e il tanto che il 90% dell'economia mondiale gira su Internet, dal punto di vista culturale, dato che i modelli di comportamento sono quelli generati dalla rete e dal punto di vista dell'intelligence. La cyberintelligence quindi diventa un'area strategica per quanto riguarda la sicurezza della Repubblica e non a caso in questo settore si stanno sviluppando master, iniziative a tutti i livelli e anche nell'attività formativa dell'Università della Calabria che si è svolta negli anni passati abbiamo dedicato parti rilevanti dei nostri percorsi formativi sulla cyberintelligence, la presenza più volte del professore Roberto Baldoni che attualmente è il vice direttore del Dipartimento per l'informazione e la sicurezza, cioè l'organismo che coordina l'intelligence italiana. Quindi un argomento del genere non poteva non essere oggetto di interesse all'Università d'Estate sull'intelligence in questa seconda edizione. L'Internet in pochi decenni ha sconvolto il mondo. Sono attualmente più di 4 miliardi e mezzo gli utenti di Internet collegati nel pianeta su circa 7 miliardi di abitanti, ma sono dati sostanzialmente in grande aumento. Tutto questo comporta delle trasformazioni sociali e anche trasformazioni antropologiche del cervello delle persone, come sta spiegando da anni Mark Prensky in relazione alla plasticità del cervello, per cui i temi della neuroscienza saranno sempre più importanti negli studi che si andranno a svolgere. Nel 2020, che praticamente dopo domani, saranno più di 20 miliardi i dispositivi collegati a Internet, praticamente tre volte la popolazione mondiale. Questo spingerà gli Stati a due diverse politiche. Una per i cittadini fisici, l'altra per i cittadini virtuali, che saranno più reali di quelli fisici. Questo comporta anche due distinte politiche estere. Non dimentichiamo, per esempio, che l'Isis si è materializzata prima sul web e dopo sul territorio, così come va evidenziata la grande capacità di anticipazione dell'uso del web, non solo del terroristi, ma anche della criminalità organizzata, che hanno saputo sfruttare prima dello Stato, ieri l'ho evidenziato in maniera molto puntuale e acuta il colonnello Ferrara, le opportunità della rete. Non a caso oggi la prima popolazione mondiale non è la Cina, non è l'India, ma è Facebook. Quindi oggi siamo più collegati, il che significa essere più isolati. Siamo più interconnessi, che vuol dire essere più sorvegliati. Google, è stato ribadito, ci conosce meglio di nostra madre e gli algoritmi anticipano i nostri desideri più reconditi. Capire è importante e occorre sapere che le tecnologie hanno riprogrammato per sempre il corso delle nostre vite. Oggi, abbiamo ripetuto spesso, signor Sottosegretario, durante queste giornate dell'Università d'Estate, viviamo nella società della disinformazione, che rende indistinguibili la verità della menzogna. E l'informazione, è stato ribadito, è strutturalmente disinformazione, tanto che la gran parte dell'informazione che viaggia sulla rete è disinformazione programmata e intenzionale. Le fake news, delle quali tanto si parla, rappresentano una parte infinitesimale del problema. La disinformazione quindi rappresenta, professore Caterini, un'emergenza democratica e pedagogica. Allora, bisogna educare alla disinformazione, prevenire alla disinformazione, educare alla sicurezza informatica, educare all'intelligence, partendo dalle scuole. Non a caso, nel novembre 2016 il DIS sottoscrisse due distinti protocolli d'intesa. Uno con la CRUI, con la conferenza dei rettori delle università italiane per diffondere lo studio dell'intelligence nelle università, quello in cui la nostra università ha anticipato molte volte il resto d'Italia, come ha ribadito il nostro rettore Gino Crisci due giorni fa nell'inaugurazione di questa università d'estate, ma anche nelle scuole. Allora, bisogna comprendere e c'è necessità di fermare, di formare. La comprensione significa avere una ecologia dell'informazione, cioè produrre l'informazione che è effettivamente necessaria, altrimenti dall'eccesso dell'informazione si ottiene l'effetto opposto. E poi occorre una dietetica dell'informazione, cioè noi dobbiamo utilizzare l'informazione di cui abbiamo effettivamente bisogno, e questo al fine di comprendere la realtà, che è un esercizio sempre molto difficile. Non a caso, Carl Gustav Jung diceva che i contemporanei saremmo quasi tutti un migliaio perché tutti gli altri vivono in epoche assurde, disperate. E c'è bisogno quindi di formazione. Non a caso, una delle professioni più promettenti di oggi e di domani è quella del data scientist, del data analyst, che racchiude in sé competenze multidisciplinari, dalla linguistica all'informatica, dalla filosofia alla statistica. Quindi diventa un punto d'incontro degli studi, così come noi vorremmo che fosse l'intelligence. Materia di studio nelle università, con corsi di laurea e master, ma anche nelle scuole. Non a caso abbiamo sviluppato nei mesi scorsi il primo esperimento in Italia, nel liceo classico Telesio di Reggio Calabria, con cui insieme ai miei collaboratori del laboratorio Camparella di Reggio Calabria, insieme con i miei collaboratori del master in intelligence e del laboratorio sull'intelligence che sono su Reggio Calabria, abbiamo sviluppato un percorso molto interessante che ha visto poi anche sulla nostra università dei percorsi di alternanza scuola-lavoro particolarmente significativi. Il potenziale rivoluzionario dell'educazione è noto a tutti. Diceva Neil Postman qualche anno fa che l'alternativa è secca tra educazione e disastro. Diceva Karl Popper, in relazione alla TV che lui non aveva mai visto, che occorreva una patente per poterla utilizzare, perché la TV era non solo cattiva maestra, ma era anche ladra di tempo. Lo stesso potrebbe significare anche per internet. Quindi utilizzare Facebook e i social avendo una patente? Le linee qua sono totalmente divergenti. Da un lato la rete viene considerata come una potente destrutturazione della politica che è diventata inefficiente rispetto ai problemi della collettività. Dall'altro la rete, come profetizzava Umberto Eco, dà spazio a legioni di imbecilli. Quindi anche le richieste più immediate di qualche giorno fa di chiudere Facebook sono delle richieste velleitarie, perché non è assolutamente possibile tornare indietro. Oggi noi siamo in campo aperto e la rete è il porto franco della modernità. Ci piaccia o non ci piaccia? L'educazione, quindi, è chiamata fortemente in ballo. Occorrono in questo anche campagne di informazione istituzionale, portate avanti magari dal sistema della difesa, portate avanti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Solo che la scuola e le università sono diventate negli ultimi decenni, sottosegretario Toffalo, degli ammortizzatori sociali per studenti e docenti, totalmente scollegati dal mercato del lavoro. Da un lato si evidenzia quel facilismo amorale che è stato generato dal 68, che piuttosto che ridurre le distanze tra figli di famiglie benestanti e figli di famiglie non benestanti, nel medio periodo ha addirittura allargato queste distanze invece di chiuderle, e addirittura corriamo il rischio di produrre un'educazione per popoli superflui. Perché le persone, alla fine, potrebbero non servire né per fare le guerre, perché li faranno i droni, né per lavorare nelle fabbriche, perché lo faranno i robot, né per l'esercizio della democrazia che dimostra dei limiti sempre più evidenti. Siamo in guerra, scriveva nel 2011 Beppe Grillo insieme con Gianroberto Casaleggio. Ma siamo in guerra, secondo me, più che contro i partiti o la politica, siamo in guerra contro la disinformazione e l'intelligence diventa una chiave rilevante per capire quello che sta accadendo, un'arma di legittima difesa verso le armi di distrazione di massa che ci coinvolgono. In questa guerra del web i soldati, consapevoli o inconsapevoli, siamo tutti noi, siamo tutti i cittadini, e i nostri comportamenti determinano non solo la violazione della nostra privacy individuale, ma incitono anche sulla sicurezza nazionale. Perché la violazione di un PC aziendale viola la realtà economica del nostro Paese e incide sui nostri interessi. Quindi la sicurezza cibernetica significa sicurezza economica e la sicurezza economica significa sicurezza nazionale. Ci spiegava Baldoni, al Master sull'intelligence dell'Università della Calabria, che la sicurezza nazionale dipende dalla sicurezza cibernetica. Quindi affronteremo la sfida decisiva dell'intelligenza artificiale, che cambierà per sempre il mondo, al di là di quello che nel 1948 scriveva Orwell profetizzando nel romanzo 1984. Quando 200 anni fa, esatti, Mary Shelley scrive Frank Stein e 50 anni, esatti, Stanley Kubrick, Gira 2001, Odissea nello spazio, raccontavano allora quella che era la fantascienza. Fantasia più scienza, probabilmente oggi ci siamo arrivati a quelle ipotesi. Nell'ultimo numero di Gnosis, la nostra rivista di intelligence che il colonnello Ferrara segue con attenzione, ho avuto modo di pubblicare un testo «Intelligenza artificiale e il nuovo ordine mondiale», richiamando l'attenzione che questo tema dovrebbe essere una priorità per l'intelligenza. E non tanto perché Vladimir Putin nell'anno scorso ha dichiarato che chi controlla l'intelligenza artificiale controlla il mondo, ma anche perché è un dato di fatto. Quindi le capacità predittive dell'intelligenza artificiale è poi un elemento fondamentale. Perché l'intelligenza artificiale è pericolosissima? Perché mentre c'era la coscienza nucleare, come la chiamava Norberto Bobbio nel 1979, cioè la consapevolezza delle conseguenze dell'arma nucleare. E la legge nucleare era in mano agli stati. Oggi invece l'intelligenza artificiale è in mano ai privati. E i privati hanno logiche diverse da quelle degli stati. Soprattutto se le aziende private vengono gestite da amministratori che magari non hanno una visione lunga del tempo, dell'eternità. Una visione che abbia dei valori morali e spirituali e che quindi si realizzano solo nel presente. E quindi questo rende questo spazio particolarmente delicato. Allora, così come per la bioetica si cerca di porre dei limiti giuridici e morali, anche per l'intelligenza artificiale bisognerebbe sviluppare un'etica in questa direzione. Temi tutti caldi, decisivi, improrogabili. Come quello dei big data, di cui ha parlato Lorenzo Guerini nella prima lezione di questa lezione. I temi del blockchain di cui ci parlerà anche l'onorevole Tofalo questa sera e che più volte ha affrontato tra i primi in Italia e a livello istituzionale ritengo il primo che si sia posto questo problema così delicato. E il tema del deep web, del web profondo dove si trova di tutto, dalla droga agli organi umani. E quindi è il deep state, lo stato profondo, il cuore dello stato, l'intelligence che si deve preoccupare di questi temi. E allora, e concludo, questa sera affronteremo questi temi così affascinanti, così significativi, così ampi, con Angelo Tofalo. Angelo Tofalo, classe 1981, deputato alla seconda legislatura, nella prima legislatura è stato componente del Copasir. L'anno scorso ha inaugurato l'Università d'Estate insieme con Giuseppe Esposito e ho trovato nella sua, diciamo, biografia, nelle cose che sta facendo, un'analogia con un altro uomo di Stato e di intelligence, a me particolarmente caro, che è Francesco Cossiga. Cossiga era stato il più giovane sottosegretario alla difesa, nominato nel 1966 nel terzo governo Moro. E in quell'occasione gli venne affidato dal Presidente Moro la delega per i Carabinieri, la prima e unica volta fino ad adesso, e la delega a Gladio. La seconda analogia è la capacità di intercettare le dinamiche del nostro tempo. Ebbene, l'onorevole Tofalo è stata assegnata, dopo Cossiga, alla delega per la gestione dei Carabinieri, e l'area del cyber. Quindi, mentre prima era determinante la guerra fredda, oggi è determinante il controllo dello spazio. E quindi questo richiama un elemento di fondo. Da un lato la continuità dello Stato, rappresentata dall'arma dei Carabinieri, saluto il Capitano Zangla, nei secoli fedele. E in secondo luogo dalla comprensione di quello che sta accadendo, dal mondo diviso in due blocchi, in un mondo che è indefinibile, nelle barriere inesistenti del cyberspazio. Quindi di questi temi noi parleremo con Angelo Tofalo, lo salutiamo e lo ringraziamo con un applauso. Buonasera a tutti, grazie per essere qua. Saluto tutte le attualità presenti, ringrazio il sindaco Leonardo Siliani per l'ospitalità. Ovviamente l'amico, il professor Mario Faligiuri, che è stato fin troppo buono nella descrizione. Poi io, giovanissimo, non ho mai fatto prima politica sul secondo mandato, ma come forse vi ho già raccontato l'anno scorso, mi sono trovato in questo percorso, che per me era un semplice percorso doveroso di attivista civico, un cittadino che si interessava alla cosa pubblica. E poi è successo quel che è successo. Ho scoperto di recente che c'era questa analogia, cioè ho ricevuto l'arma dei carabinieri che nella storia era stata data solo al presidente Cossiga. Sicuramente è un onore, è un significato forte che mi rende d'orgoglio, ma anche di responsabilità. Oggi, come l'altra volta, vorrei fare una chiacchierata, una conversazione, quindi interrompetemi ad ogni curiosità, perché anche io vorrei imparare qualcosina oggi da voi. Io vi racconto un po' per l'esperienza che ho fatto nella 17esima legislatura. Ero il capogruppo per la mia forza politica al Copasir e oggi, esattamente, oggi è 8, il 13, la settimana prossima, l'altro sarò in Corea, saranno esattamente tre mesi da quando ho ricevuto il mandato dal presidente Conte come sottosegretario della difesa. E quindi, ecco, tra intelligence, difesa e al centro poi c'è il concetto della sicurezza, affronteremo un po' di temi con una particolare attenzione a quello che è la minaccia cibernetica, a quello che è internet, a quello che ci ha sottolineato il professor Caligiuri. I temi sono tantissimi, quindi il tempo è quello che è, quindi preferisco che magari voi mi indirizzate. So che nelle prime due elezioni, il professor Ferrara e il presidente Guerini hanno già affrontato, quello che affronta io l'altra volta, all'apertura, cioè un po' la composizione del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, quindi quelle che sono le agenzie, il dipartimento e il controllo parlamentare affidato al Copasir. A me la cosa che piace sottolineare, lo dico sempre, forse l'avevo detto anche già l'anno scorso, però mi piace perché è significativa, quindi per arrivare a parlare di internet e di minaccia del web, un attimino velocemente è quello che è stato il percorso storico, cioè che ci sono tracce sul pianeta di intelligence, di servizi segreti, se così vogliamo dirlo, da 34-35 secoli, e da sempre chi ha gestito quindi il potere, a seconda di quella che era la forma organizzativa delle comunità, si è sempre dovuta servire del segreto e quindi dell'esclusività di alcune informazioni, quindi dalle democrazie repubblicane, le monarchie, i re e i principi a tornare indietro, i faraoni, i imperatori, ancora oggi in alcune tribù, in alcune parti del globo, ecco, la contrapposizione tra potere e segreto trovano nell'informazione unica del decisore, di chi comanda, il vantaggio e quindi il gestire una comunità. E qual è la difficoltà che sicuramente avrà fatto intendere il Presidente Guerini è che esiste quindi tracce di intelligence da 34 secoli, il controllo parlamentare, siamo nel 2018, esiste da poco più di 40 anni, quindi 41 anni, la prima legge in Italia è stata l'801 del 77, che istituiva il primo controllo parlamentare per arrivare al Copaco e poi nel 124 del 2007, ora siamo all'undicesimo anno della nuova legge, e quindi abbiamo 40 anni di storie, di esercizio di controllo parlamentare sul sistema informativo che ha una storia ben più lunga, quindi, diciamo, la prima difficoltà, la prima difficoltà è questa. E poi c'è, quindi non sto qui a ricordare, ecco, ho preso un po' di appunti da il dopo, primo, dopo guerra, quindi dopo la prima guerra mondiale, i primi, diciamo, servizi segreti più strutturati delle forze armate che erano singole, quindi esercito marina, aeronautica, avevano i loro servizi, quindi a carattere principalmente militare, che poi furono uniti nel SIFAR, successivamente il SID dopo il golpe, il piano solo, la trasformazione, la legge, CESIS, SISMI e SISDE, e poi dal 2007 abbiamo il DIS, l'AISI e l'AISI, e sicuramente, ecco, per quella che è la velocità anche di effetti della globalizzazione, qualcuno ha definito shock della globalizzazione, sicuramente abbiamo un mondo molto più complicato, in minacce, non dico nuove, perché poi spesso la minaccia cyber viene identificata come minaccia nuova, io sottolineo sempre che sicuramente è una delle più recenti, però la minaccia cibernetica, ecco, esiste, e quindi Internet come strumento esiste da quando c'è Internet, quindi la minaccia cibernetica esiste da quando esiste il primo computer, che poi oggi, con la diffusione capillare attraverso il web e dei social, siamo, come diceva prima il professor Caligiuri, 4,5 miliardi collegati, è normale che la potenziale minaccia dallo strumento cibernetico ha assunto una rilevante importanza e, dicevo, sicuramente il legislatore, negli ultimi due anni, ecco, sta facendo delle riflessioni, l'abbiamo fatte noi nella scorsa legislatura con il Comitato, con il Presidente Stucchi, dove facciamo una serie di giri attraversando tutti i continenti, tranne l'Australia, poi è finita la legislatura, avevamo in programma di andare a conoscere anche i comitati di controllo nell'ultimo continente, ecco, che ci mancava, ma penso che il Presidente Guerini continuerà un po' questo studio per, ecco, studiare come avviene in altri parti del mondo, di altre forme di governo, come avviene il controllo parlamentare sull'intelligence, proprio per poi poter avere migliori strumenti legislativi per legiferare e, mi avviso, ecco, anche la 124 va un pochino aggiornata perché tante cose buone introdotto e, in primis, non mi stancherei mai di dirlo, la diffusione della cultura della sicurezza che è prevista ad opera del DIS e, tra l'altro, io ci ho tenuto a chiedere al Ministro, ho tenuto, per quanto riguarda la difesa, la trattazione delle problematiche inerenti, la diffusione della cultura della difesa e della sicurezza, quindi in ambito difesa ho chiesto, ho avuto la delega perché ritengo sia fondamentale, oggi, ecco, perciò ringrazio ancora il Professor Caligiuri che mi ha invitato l'anno scorso e sono tornato con piacere quest'anno perché quando si parla di questi temi è sempre fondamentale. Quello che è cambiato, quello che si è modulato, come dicevo, è la minaccia, la minaccia per cui un aggiornamento, ecco, io già ho suggerito in passato ma non solo il solo, in maniera un po' trasversale, sicuramente il superamento forse di un'agenzia interna e esterna perché, ecco, la minaccia non ha un confine territoriale, quindi non esiste, cioè, se vogliamo semplificare, sicuramente c'è la minaccia interna dove noi identifichiamo quella sul territorio nazionale e quella estera, magari per il nostro on-out, le nostre aziende fuori e gli italiani, diciamo, all'estero o la minaccia che dall'esterno arriva all'interno, però ormai i confini sono labili, soprattutto nel dominio cibernetico e quello che vorrei anche sottolineare oggi è il fattore tempo, cioè un altro punto d'osservazione dell'evolversi delle minacce e principalmente, come ho detto, l'intelligenza a carattere militare è il fattore tempo. Noi siamo partiti da fare le battaglie con pietre e bastoni per arrivare poi il ferro alle lance, vado velocissimo polvere da sparo, la staffa al cavallo, quindi i tempi sono ridotti, quindi prima ci azzuffavamo a mani nude, poi pietre e bastoni, poi ferro, polvere da sparo, i cavalli, quindi diminuiva il tempo d'impatto, riusciva a spostare le prime truppe, prima ci mettevi anni, se non mesi, poi magari mesi, settimane, fino ad arrivare poi alla scoperta, quindi alla creazione dei primi motori e bisogna anche sottolineare, interrompetemi quando volete qualunque domanda e correggetemi se sbaglio e se avete altri spunti, se per mare, come dire, da sempre abbiamo le prime navi da guerra, i giapponesi 1500, fine 1500-1600, i primi carri armati, i primi aerei sono visti quindi per terra e per cielo con la prima guerra mondiale, i tedeschi che erano all'epoca molto, diciamo, concentrati sullo sviluppo della tecnologia, poi abbiamo sempre da dove i tedeschi i primissili successivamente alla seconda guerra mondiale e arriviamo alla minaccia cibernetica che riduce tutti i tempi, quindi se prima siamo partiti con un attacco o battaglie che duravano anni, mesi, giorni, comunque settimane, con eserciti che ancora oggi ci sono, oggi con la minaccia cibernetica e col dominio cibernetico, quindi internet cambia tutto. E un altro punto d'osservazione che sto studiando bene perché ormai sono sottosegretario della difesa, e che poi comporta storicamente, sociologicamente, un mutamento anche del mondo della difesa, è la forte riduzione del numero degli eserciti. Noi stiamo adottando da anni una riduzione perché se, come dire, nella prima guerra mondiale vedo il numero dei morti, si parla di un milione e mezzo e più di morti, oggi non c'è più necessità di avere tutti quegli uomini, quindi noi siamo arrivati ad avere meno di 100.000 uomini nell'esercito, i carabinieri sono di più e fanno un grandissimo lavoro che ogni giorno, quotidianamente, apprezziamo. Abbiamo l'aeronautica che sta sulle 40.000 unità e la marina sulle 32.000-33.000, ma sono previste ancora tutte le forze armate, una riduzione, una riduzione. Questo fa capire anche come è cambiato, ecco, nei decenni un po' il tipo di battaglia. Dicevo, siamo arrivati poi alla minaccia cibernetica, siamo arrivati alla minaccia cibernetica, siamo arrivati a internet in realtà e quindi web e social e, come già detto il professore, non voglio ripetere magari cose già dette, però ora inizio su quello che hai detto tu a fare delle considerazioni puntuali. Il campo di battaglia si è spostato, magari con meno morti apparenti, nel senso che l'Isis, parliamo dell'Isis, ha studiato una comunicazione per colpire l'Occidente e ci è riuscita, quindi con scrittori, registi, studiosi che erano esperti dell'Occidente ed è riuscito a trasmettere la paura, il terrore, utilizzando molto bene quello che è lo strumento del web. web si è utilizzato in altri settori come in politica, e qui devo dire avete dei maestri, dove a costo zero ci sono state forze politiche che sono riuscite a raggiungere risultati prima dell'ora imprevedibili, ma oggi tendenzialmente, soprattutto nel mondo del business, perciò dicevo, meno morti, magari meno sangue, meno morti, però ci sono, io li chiamo morti bianchi, con le morti invisibili e io ogni giorno ho a che fare con ragazzi che subiscono attacchi cibernetici, perdono il know-how, quindi ci sono brevetti rubati, ci sono persone che studiano, fanno master, poi iniziano attività, hanno un buon fatturato, poi negli anni perdono magari il primo cliente su dieci che però faceva il 50% del fatturato, perdono il secondo, quando perdono il terzo e devono chiudere, capiscono che qualcosa non è andato, prendono gli esperti e vedono che sono stati completamente sfiltrati e c'è un'azienda tale quale che prima stava in Italia e sta magari, non dico in quali paesi, però in altri parti, e questi sono danni, sono una disoccupazione con tutto quello che comporta e questo purtroppo non è ancora percepito, negli ultimi anni si parla molto di cyber, anche a me piace dire cyber, cyber, cyberspace, cyber minaccia, però credo che le istituzioni a me siano ancora molto indietro e quindi è un dovere anche legiferato in tal senso e qua vi dico, velocemente vado però alla difesa, io personalmente ora sto lavorando sulla difesa, quindi avendo la delega specifica anche alle problematiche della minaccia cibernetica, quindi mi sono già visto tutti i reparti, quindi il C, il reparto Interforza Intelligence e il C4 Difesa, il COI, il CIOC, tutte quelle strutture che si occupano di cyber all'interno della difesa e per lavorare una riorganizzazione, diciamo l'obiettivo sarebbe quello di arrivare a una prima vera, diciamo la chiamo forza armata per suscitare interesse, però diciamo un comando di natura cibernetica, non so se avete letto un mese fa, era prima della pausa estiva intorno al 7-8 agosto, stavo ancora in ufficio, mi ricordo che Trump ha lanciato l'armata dello spazio, quindi loro stanno già progettando le guerre stellari e noi qui ancora, ahimè ovviamente i mezzi economici sono diversi, quindi bisogna tenere presente anche questo, però ecco credo che sia arrivato il momento di investire, di investire molto in sicurezza cibernetica e ovviamente la difesa anche in attacco cibernetico e qui con tutte quelle che sono gli atti normativi che vanno fatti, in primis le garanzie funzionali che come sappiamo appartengono perché poi la cyber, come ha detto il mio professor Caligiuri, è in testa alla presidenza del Consiglio e quindi al DISS, al Dipartimento delle Informazioni e della Sicurezza che coordina le due agenzie, ma sicuramente anche lì come ho detto in passato delle migliori vanno fatte perché ci sono sicuramente delle sovrapposizioni all'interno del Dipartimento delle Agenzie sulla trattazione della materia cibernetica, io tempo fa avevo ipotizzato, poi bisogna vedere un attimino poi cosa si deciderà, però ecco la creazione di un'ennesca italiana, quindi diciamo una ristrutturazione dell'intelligence dove magari si crea un cervello anche più grande dove si fa molta analisi e poi delle strutture verticali che vanno specializzate su controspionaggio, controterrorismo e sicuramente sulla parte cyber, quindi l'unico reparto che fa quello a disposizione poi degli altri comandi. E quindi Forza Armata Cyber, questo ve l'ho raccontata, oggi come dicevo se vuoi stare nel mercato, se non sei presente su internet, sul web, se sei un'azienda, fallisci. Quello che stanno capendo tutti, io l'ho visto quando ai miei morirono i due stagi della Bonatti in Libia, non so se vi ricordate, in caso di quelle milizie, me ne sono accorto adesso ho letto diversi articoli, persone attente sull'evento critico del ponte Morandi a Genova, le aziende stanno sottovalutando la comunicazione, il risk management e la comunicazione sugli eventi critici legati alla sicurezza. Quando aziende e colossi quotate in borsa sbagliano la comunicazione, anche social, sono miliardi che se ne vanno in pochi secondi. A mio avviso lì Autostrade ha completamente sbagliato la comunicazione, è stato completamente riterrato il silenzio e lì sono mei milioncini che se ne sono andati. Era? Purtroppo sì. E qui mi collego, io penso che, soprattutto ai più giovani, vedo che ci sono molti giovani in sala, io credo che uno dei lavori del futuro sia proprio la specializzazione su questa cosa qui. Quindi aziende che non sanno comunicare se stesse, soprattutto in momenti critici, quindi la gestione della comunicazione in alcuni momenti può essere vitale, può essere vitale. La direzione alla quale si sta dando, già siamo andati, è quella dei big data, quindi dei colossi delle aziende e qui arriviamo a quelle che sono le grandi opportunità e da un'altra parte i rischi. Come sempre dico, perciò serve diffusione della cultura e della sicurezza, l'elemento più debole siamo noi, cioè l'essere umano, quindi chi sta tra la sede e il PC. Quindi se noi informiamo e facciamo formazione, riduciamo il rischio e quindi aumentiamo quella che è la sicurezza. E lo dicevo prima in una chiacchierata tra amici, prima di iniziare questo incontro, io penso e reputo che l'intelligence, quindi il metodo logico, il metodo scientifico vada insegnato nelle scuole, adesso non sono già un docente, magari qui ci sta chi più di me ne sa e può dire qualcosa di più giusto, però io penso che sicuramente dal liceo, ma se non prima, va insegnato il metodo logico e il metodo scientifico, che significa semplicemente far capire quando esce una notizia, una voce, un qualcosa, da chi parte se quella fonte è credibile o meno e che livello di credibilità è. Perché purtroppo, ecco come si diceva prima, poi si mettono in giro le cosiddette fake news, basta qualcuno che ci abbocca o la dà per vera, parte il tantam, diventa virale e si prendono delle cantonate enormi e succedono anche, spesso è più preparati che sottovalutano la propria fonte originaria e si prendono delle cantonate. Poi ovviamente è fatto a livello intelligence, ci sono giochi e giochini tra magari due o tre intelligence a livello mondiale che si mettono d'accordo magari per raggiungere un obiettivo, quindi a discapito magari di un altro governo e saper distinguere le fonti e fare un po' di reverse engineering è fondamentale, è fondamentale questo qui. E sulle fake news, io qui ti faccio però una correzione, forse l'hai detto dopo parlando di popper della tv, però sulle fake news io ci tengo molto, perché sono un appassionato di web, di internet, questo ve l'ho già detto anche l'anno scorso, io non guardo la televisione da, ho perso il conto, ma saranno 12-13 anni almeno, cioè che prima la guardavo, adesso sicuramente mi capita di guardare il TG, cioè non significa però io non ho la televisione in stanza, ho la televisione a casa, poi quando sto in ufficio magari passo nell'ufficio di qualcun altro, mi capita, però la televisione non la guardo da anni, ho completamente staccato e come fonte informativa ho solo internet e sulle fake news non bisogna fare l'errore di demonizzare uno strumento, cioè quello del web e quello di internet, perché le fake news io le leggo quotidianamente sui giornali, mi capita di vedere in televisione o le ascolto per radio, quindi diciamo sulle fake news bisogna stare attenti perché la disinformazione c'è attraverso tutti gli strumenti di informazione di massa e qui ecco vengo alla blockchain che è una tecnologia che sto approfondendo da qualche anno che credo prendere a piede, prendere a piede che sembra così complicata, ma complicata non lo è, me la spiego in due minuti, poi non sono un tecnico informatico, però ecco non è complicata, serve per praticamente dare maggiore sicurezza a un sistema, quindi se vogliamo dare un valore a un oggetto, a una casa, c'è magari un notaio che dà valore a quell'oggetto, per cui uno fa un contratto, Angelo Tofalo compra la casa da Mario Caligiuri, c'è il notaio che attesta che c'è un trasferimento economico e quindi quel bene passa da Mario Caligiuri a Angelo Tofalo. Quando siamo invece sullo strumento internet, se noi vogliamo dare valore a una cosa, quindi venderla o dare comunque un valore, cambia tutto, perché se io adesso vi scatto una foto e la mando al professor Caligiuri, io non è che io ho venduto, io ho dato quella foto, quella foto ce l'ho sempre nel mio telefonino, ce l'ha lui, lui magari la pubblica su Facebook, ce l'hanno tutti, quindi non ha un valore unico aggiunto e per dare valore su internet, ovviamente sono nati, prima c'erano le banche, tanti altri strumenti, le poste, faccio un esempio, Paypal, Paypal è uno di quegli strumenti che fa da garante, quindi voi vi registrate, ce ne esistono tanti gli strumenti, caricate 500 euro, comprate un libro da Mario Caligiuri, pagate 20 euro, Paypal dice, ok, Angelo Tofalo aveva 500, io attesto che adesso Angelo Tofalo non ha più 500, perché ha comprato un libro di 20 euro da Mario Caligiuri e ne ha 480, Mario Caligiuri che ne aveva 500 ne ha 520, quindi viene abbattuto quello che viene chiamato l'utilizzo doppio e anche la contraffazione su internet. Ovviamente Paypal è uno strumento che centralizza, quindi è sicuro perché c'è un garante che dice questo valore è passato, questo ebook è passato da Mario Caligiuri da Angelo Tofalo, Angelo Tofalo ha 20 euro in meno, perciò i bitcoin famosi, ha meno soldi, ce l'ha lui, ok, però che succede? Se Paypal o Amazon, Ebay, tutti questi strumenti qui, dovesse subire un attacco di natura cibernetica, è un soggetto unico, facilmente attaccabile. Quello che fa la blockchain invece, crea un registro condiviso, quindi siamo tutti quanti in questa sala e creiamo una struttura, quindi ovviamente a compartimento stagno, diffusa di blockchain, ognuno di noi ha un server, io mando la foto al professor Mario Caligiuri e questa foto deve restare unica, tutti quanti voi registrate, immaginate un foglio, un registro dove ci sono un valore economico ognuno a 10, tutti voi sul vostro registro segnate che Angelo Tofalo non ha più 10 monete ma ne ha 9 e Mario Caligiuri non ne ha più 10 ma 11, per cui tutto il server in maniera condivisa ha questo registro che certifica che è passato questo valore e che Angelo Tofalo non ha più nel suo server quell'immagine e questa immagine è passata sul server del professor Caligiuri e lo attestiamo e lo certifichiamo tutti qui dentro, quindi che significa? Se io poi voglio vendere la stessa foto al sindaco, tutti voi vi alzate, eh no, ma se la foto l'hai data al professor Caligiuri non la puoi dare più al sindaco, questo in maniera proprio molto semplificata, come viene incentivato questo sistema, perciò si chiama catena di blocchi, con delle semplici, affatto non semplici, delle equazioni matematiche molto complesse e servono dei calcolatori per sbloccare che poi il sistema criptografico è passato da un blocco all'altro, dove da un punto di vista diciamo di server, queste informazioni, quindi quante monete Angelo Tofalo e c'è un blocco, Angelo Tofalo, Mario Caligiuri chiede una foto, chi c'ha questa foto c'è Angelo Tofalo, si crea un altro blocco, tutti attestano che io c'ho la foto, tutti attestano che io ti passo la foto, tutti attestano che tu mi dai una moneta a me e ogni blocco viene come dire autenticato da tutti con un'equazione matematica che è il primo che risolve, tipo si dice quanto fa due più due, il primo che dice quattro concede il passaggio al blocco successivo, non vado troppo nel matematico, però per farla in sintesi il vero concetto della blockchain è che se prima nello scambio di un valore bastava attaccare un soggetto unico, adesso dovrebbero attaccare per contraffare in internet questa cosa la metà più uno, quindi se qui siamo 30 dovrebbero attaccare 16 persone, in modo che la maggioranza 16 dice no non è vero, cosa molto difficile perché poi parliamo di server condivisi nel mondo, per cui questa tecnologia viene considerata molto sicura. Ovviamente ci sono applicazioni, ci sono tantissime applicazioni, una di queste che sta avvenendo ed è molto utile è quella dei brevetti, dove utilizzando il sistema blockchain si attesta, siccome un'altra caratteristica che ha la tecnologia blockchain è che una volta che introduci un dato non lo puoi più togliere, non lo puoi più modificare, puoi solo aggiungere altre cose, per cui anche il fattore temporale è garantito, per cui sui brevetti dove spesso ci sono questioni per dire l'ho fatto io, l'hai fatto tu, l'ho fatto io, l'ho fatto tu, con la tecnologia blockchain non scappi, hai il dato preciso di chi è stato il primo a creare questa cosa qui. E io penso che nei prossimi anni questa tecnologia prenderà sempre più piede e crea una maggiore democrazia, democrazia di rete, perché quello che credevano molti anni fa è che con internet ci fosse stata un po' più di democrazia, in realtà per quanto riguarda i scambi economici, perché inizialmente quando internet stava esplodendo alcuni analisti dissero che il sistema avrebbe creato una più equa distribuzione delle risorse. Non è stato così, perché i grandi colossi, i vari Amazon, i eBay, hanno centralizzato, un po' come hanno fatto i notai e le banche prima di loro, hanno centralizzato quelli che erano i scambi su internet, per cui non c'è stata questa equa ridistribuzione delle risorse. Con la tecnologia blockchain, che viene intesa come più democratica, sicuramente si avrebbe questa trasformazione. Una domanda, attualmente quante strutture, quindi aziende utilizzano blockchain? Guarda, proprio ieri o l'altro ieri Google ha introdotto blockchain, attualmente non esiste una blockchain pubblica, per esempio noi vorremmo, io feci il primo evento di servire il professor Caligiuri alla Camera, dove venne anche il presidente della Camera, ci sono dei primi studi per quanto riguarda la pubblica amministrazione, ci sono dei governi di paesi in Estonia, in Inghilterra che già hanno utilizzato la blockchain anche per la distribuzione delle case popolari, dove quindi abbassi il livello di imbroglio, per capirci, e anche sulle gare d'appalto, dove qui abbiamo il comandante che ci può dare dati freschi insieme alla Guardia di Finanza su quella che è la corruzione in Italia, ci sarebbe, almeno viene stimato un grande abbattimento di quello che sono i sprechi di risorse pubbliche, ci sono adesso le aziende private che le stanno sperimentando internamente, le stanno utilizzando, io che vado sempre, come dire, spingo sempre oltre, e qui ci sta chi ne sa più di me, per quanto riguarda l'intelligence, secondo me si potrebbero applicare sistemi blockchain interni, cioè è normale, uno deve capire non è che con la blockchain siamo su internet e la tecnologia è tutta aperta, no, cioè io ho fatto l'esempio in questa stanza, cioè ci sono dei sistemi di compartimento stagno, lì dove tu puoi garantire una massima trasparenza, quindi in alcuni reparti delicati lì dove tu utilizzi una blockchain, tu controlli tutti i tuoi uomini, tutti i dati che vengono messi e quindi diciamo il sistema è molto meno contraffattibile, se vogliamo dire, proprio questo è il... Non è? Non si può manomettare? Sì, sì, è manomettibile, Gesso. Posso fare una domanda? Sì, se sono... Ma ad oggi, quindi, quanto capito, sono la tecnologia blockchain, quindi sperimentazione su aziende private, giusto? Ti parlo di qui, cioè qui nel pubblico non c'è ancora nessuna utilizzazione, in altri paesi come Estonia e Gran Bretagna l'hanno già utilizzate. Ok, e al momento, come all'inizio dico, ha dei costi elevati, cioè c'è... Ma no, guarda, io ci sono, se cerchi su Inter, ci sono, vedi Bitcoin, queste prime monete, c'è questa leggenda, come si chiama, il giapponese, che in realtà non esiste, hanno affidato a lui la creazione per creare il sistema Bitcoin, cioè tu, da te, se sei un bravo informatico, puoi creare una rete di tecnologia Bitcoin. Tutto sta a creare l'algoritmo iniziale a seconda di quello che vuoi fare, cioè sono dei software, per intenderci, sono dei software che tu puoi applicare e creare per la tua azienda, a seconda della tua necessità. Quindi il costo, ci sono alcuni analisti che parlano di un costo elevato quando crescono i numeri, ad esempio utilizzare la pubblica amministrazione, siccome per andare avanti tu devi incentivare il sistema a funzionare, e l'incentivazione viene data appunto dai Bitcoin, che sono queste monete virtuali, per far funzionare questo sistema, questa tecnologia, tu appunto devi risolvere dei quiz, dei quiz matematici. Questi quiz ovviamente parliamo di formule, diciamo di quiz abbastanza complessi, che vengono risolti da calcolatori, quindi maggiore hai potenza di calcolo, maggiore funziona la tecnologia. Però ci sta chi dice che diffondendola molto, però non esistono teorie, per esempio io la studiere meglio, ci sarebbe un grande consumo di energia, cioè più diffondi la tecnologia blockchain, più ci sono blocchi da sbloccare per farla funzionare, maggiori sono i calcolatori a livello mondiale che devono lavorare per farla funzionare e quindi ci sarebbe un grande dispendio di energia, però non ci sono ancora stime concrete, cioè lì dove si sta utilizzando sta ovviamente in piccole aziende, nel senso di piccole operazioni, c'è Google che ha iniziato due o tre giorni fa ad utilizzare per gli analytics, quindi diciamo sta funzionando. Io penso che fino a quando non la si capisce bene, la tengono anche un po' ferma, però è tutto da scoprire. 10 CPU con il massimo sistema, questo e quell'altro consumano 10 megawatt ore, se messe al massimo cattro, quindi sono 10 megawatt, sono un'enormità se deve lavorare la macchina. Figuriamoci se va strutturata questa potenza dal punto di vista pubblico, a cosa arriva dal punto di vista del consumo energetico, quindi c'è anche da fare una scelta. C'è chi sta facendo degli studi, io sul consumo energetico non ho ancora approfondito molto, però piccoli esempi realizzati ci sono e funziona, poi è normale, bisogna capire fino a che punto si può estendere. E qui ci colleghiamo poi, e tu già ne hai parlato, all'intelligenza artificiale. Leggevo qualche giorno fa diversi articoli, sempre di analisti, che vanno oltre quella dell'intelligenza artificiale, ovvero quella che sarà l'intelligenza artificiale del singolo. Cioè, ognuno di noi ha dei profili social, già sappiamo che è tutto indicizzato, i motori di ricerca, dico Google, che è quello più noto a tutti, e siamo profilati, siamo profilati di tutti. Ed è normale che quando tu ti colleghi poi su Google, oppure ti arrivano delle mail, magari hai ricercato pannolini per bimbi, e poi ti arriva la mail, c'è stato un caso in Francia, è cronaca qualche anno fa, di una persona che aveva ricevuto le pubblicità, l'azienda aveva saputo prima di lei che la donna fosse incinta, questo forse già l'ho raccontato, c'è stata un'interrogazione parlamentare, questo è stato un caso proprio eclatante, abbastanza noto. Questa è la direzione e siamo molto più avanti oggi. Io vedo un problema in quelli che sono gli algoritmi, e sto provando a seguire, però questo lo puoi contrastare, perché poi ci sono le opportunità e delle minacce, poi contrastare, io lo chiamo il comportamento magari non etico, non dico che non etico, però quello che potrebbe essere non etico delle multinazionali di Big Data, andando a mettere le mani sul collo di ingegneri, che magari lavorano agli algoritmi. E faccio l'esempio dell'auto, non so se ve l'ho già fatta, ci sta l'esempio pilota, che è quello della macchina guidata dall'intelligenza artificiale, quindi c'è questo problema di sicurezza davanti, voi state da qua dieci anni, già c'è, però diciamo fra dieci anni ne avremo tutti, stiamo nella nostra macchinina, stiamo andando da la soveria mannedia, crotone, e leggiamo il nostro libro, lì c'è un problema di impatto davanti, ci sono telecamere, sensori, quindi l'auto artificiale guida da sé, a quel punto davanti c'è un incidente, c'è marcia a piedi a destra, marcia a piedi a sinistra, l'intelligenza artificiale, quindi l'algoritmo, deve decidere cosa fare, quindi frenare improvvisamente, magari voi fate testa e cruscotto, girare a destra e girare a sinistra, magari a destra vengono rilevati due bimbi che giocano con la palla, a sinistra ci sono due anziani, l'auto davanti c'è una donna, magari la telecamera rileva che la donna è incinta, perché ormai siamo a questi livelli qui, per cui è l'algoritmo che magari dico sarò brutale, giri a sinistra perché ci sono due anziani, l'aspettativa di vita X, magari l'algoritmo deciderà di non ammazzare, e questo è il mondo che sta arrivando, lo so che è crudele, sembra crudele, ma questo è il mondo che sta arrivando, allora qual è il dovere della politica? Il dovere della politica è, secondo me, decidere, legiferare, per cui non farsi imporre su un problema etico che è importantissimo, non farsi imporre... Le assicurazioni... Eh sì, vabbè, non sto a parlare dei mercati che si sviluppano, però ecco il concetto è... io sono ingegnere, quindi sono per la scienza, per il progresso tecnologico, sono appassionato, però attenzione, nel senso cerchiamo di capire anche la direzione che stiamo prendendo, che ormai ci sta travolgendo e cerchiamo... e io sono per la macchina che lavora e magari l'uomo si diverte di più e legge qualche libro in più, non a discapito ecco della disoccupazione, dell'occupazione del lavoro, però da un punto di vista etico io penso che il dibattito vada affrontato. Il problema è che fino ad oggi quello che è il dibattito su questi problemi etici viene affrontato in maniera non coordinata, cioè magari nei singoli parlamenti, noi abbiamo affrontato già alcuni argomenti in commissione soprattutto sul tema della cyber, però queste cose qui le vinci se ti coordini con i parlamenti a livello mondiale, che poi le aziende a livello mondiale sono organizzatissime, sanno dove conviene pagare le tasse, dove conviene creare l'azienda, dove conviene lavorare, però poi ecco la parte politica, io ho avuto scambio di queste cose con qualche parlamentare d'oltre oceano via mail, quindi non sono cose con le quali si parla ogni giorno, però io ritengo che da qui a breve anche la politica, ma non dico la politica per dire il popolo sovrano, cioè noi, cioè gli italiani in particolare, ma i cittadini del mondo dovranno porsi questo problema, di recente ho letto un libro, il Vare si chiamasse una scienziata, una professoressa del MIT, che se ne è scappata, Connor O'Neill, e si chiama I danni degli algoritmi, vittime degli algoritmi, e questa professoressa, questa scienziata del MIT, racconta tutti i danni degli algoritmi, è un esempio stupido qual è? C'era una scuola americana che aveva preso un software per valutare il rendimento degli alunni e in base al rendimento degli alunni la capacità degli insegnanti, quindi per valutare gli insegnanti, e questo software funzionava, arrivò il giorno in cui bisognava ridurre, hai trovato? Dopo te lo passo, e bisognava ridurre il numero del personale dei docenti, che succede? Che in base all'algoritmi, al software, uscivano i peggiori docenti, in base ai peggiori risultati degli alunni. Questa professoressa, X, era consigliata la migliore di tutti, il capo medio di un nuovo Dio. Un giorno il software esce il suo nome, succede la rivoluzione, lei giustamente viene cacciata, lei fa causa con l'avvocato, alla fine dimostra, lei dimostra che alcuni professori, per dimostrare che erano bravi, quindi se arrivavano gli studenti al terzo anno che prendevano tutti i sei, l'anno dopo mettevano tutti i sette, lei che era più onesta e magari più rigida, se tu meritavi cinque ti metteva anche il cinque, quindi magari c'era un declassamento, perché lei era, come dire, onesta e valutava, però questo che significava che lei non era brava, perché, e questo algoritmo, in questo software di questa scuola era impostato così, e lei poi ha vinto la causa ed è stata un'integrata. E ci sono tanti esempi di come gli algoritmi stiano decidendo delle nostre vite, e spesso non ce ne accorgiamo nemmeno più, al di là delle profilazioni banali e di quando ci coliamo a internet e troviamo la pubblicità e magari per una settimana abbiamo parlato, ah mi devo comprare l'auto e poi ti colleghi e trovi, ti arriva la mail, vuoi una bella scuola, una bella Hyundai, oggi è così, oggi è così. Però, chiudo, poi facciamo qualche domanda, perché ho divagato tantissimo, vengo poi a quello che da ingegnere appassionato, io prima progettavo, l'ho detto, opere strategiche legate al mondo delle telecomunicazioni, c'è una cosa, e qui vengo, torno all'intelligence dove aveva iniziato, c'è una cosa che resta fedele nei secoli come l'arma ed è la U-Mint, cioè noi possiamo mettere tutta la tecnologia che volete, possiamo avere tutto il futuro e tutti gli strumenti possibili e immaginabili, ma io penso che la U-Mint ancora di più adesso, ancora di più adesso, che si sta abbassando la guardia, sarà fondamentale da quei prossimi anni più di prima, più dei tempi delle versioni interne, le brigate, noi abbiamo vissuto, abbiamo una forte esperienza e questo, abbiamo una grande intelligence che ha una storia forte su queste cose e tutti gli operatori della sicurezza interna, l'Italia viene presa come modello proprio per le esperienze che abbiamo avuto, il contrasto alle versioni interna, io penso che proprio in questo periodo in cui si parla tanto di internet, di web, blockchain, intelligenza artificiale, quindi dominio cibernetico, io penso che molte, molte intelligence, molti governi stiano abbassando la guardia sulla U-Mint, per cui alzarla, e dovessimo farlo noi, ma so che lo stiamo facendo, e tornare ad altissimi livelli U-Mint, penso che da qui a qualche anno farà una grande differenza, anche perché ci sono tecnologie ormai che da remoto riescono a inoculare un po' tutto, però per poi prendere l'obiettivo il U-Mint non sbaglia, diciamo la macchina può ancora sbagliare, quando invece c'è l'obiettivo la risorsa umana difficilmente sbaglia, io mi fermerei qui, magari qualche considerazione, qualche domanda. Grazie mille. Abbiamo un po' di tempo per le domande, colgo l'occasione per salutare il professore, editore e consigliere comunale Florendo Robettino che ci ha raggiunto, salutiamo con un applauso. No, grazie. Allora, quindi abbiamo un po' di tempo per le domande, chi vuole intervenire? Prego Arti. Sottosegretario, lei ha parlato di questa, in base alla delega che ha la cyber security e la strategia cyber in segno alla difesa, è interessante in qualche modo comprendere come l'insegno strategico di questo governo, come possa integrare oltre alla parte della security, quindi la cyber security, anche una politica legata alle infrastrutture critiche del paese all'interno, considerando anche infrastrutture critiche anche la questione legata all'economia, quindi alle transazioni economico-finanziarie. E qua mi collego alla tematica più importante che è quella della sicurezza economica del paese legata alla blockchain, all'adozione di tutte le tecnologie necessarie per garantire il paese nelle compagnie nazionali e internazionali. Perché lo dico questo? Perché visto che avete una visione chiara sulla CDP, sulle infrastrutture critiche, quindi telecomunicazioni e quant'altro, sul presidio dello Stato sulla rete, la rete la vogliamo fare a rendere infrastruttura nazionale e quindi adottare una strategia policentrica ma dal punto di vista strategico come infrastruttura critica nazionale. Quindi, aprendo la porta agli operatori, pagano l'affitto dei transiti ma tutte le transazioni, sia online, oltre che la sicurezza delle informazioni, tanto in sé per sé, che ovviamente i grandi flussi che avvengono sulla rete dal punto di vista delle minacce sia sistemiche al sistema produttivo economico del paese che dal punto di vista militare. Quindi, riorganizzare l'agile, riorganizzare tutto il ciocco, riorganizzare, in base anche a quelle che sono le grandi strategie che il governo, secondo me, da quello che pare dalle prime intenzioni, ha già manifestato. Cioè, non affrontare i problemi a compartimenti stagni, ma a guardare la visione insieme. Vogliamo che ci sia maggiore gettico? Perfetto. Tassiamo le transazioni online come si è fatto in Europa e si è scelta del 3%, ma come faccio il Stato a verificare? Quando ho la SOGI scollegata all'infrastruttura? Non so se... Non lo ho chiarissimo. Quindi, il modello inglese, che secondo me è il migliore da questo punto di vista, non tanto quello americano, serve di rinco, delle serie G-A-C-A-G-A-C-C-A. Corrisponde meglio forse alla nostra esigenza. Non ci dobbiamo inventare nulla di nuovo. Quindi, come considerazione, secondo me va rivisitato anche la parte del libro bianco, che sul tema della cyber ha lasciato meno risorse, quindi rinegoziare anche quella che è la strategia europea, alla quale il libro bianco tendeva, che è quella dell'integrazione delle politiche cyber con quella dell'Unione Europea, che sono anche abbastanza per noi anche stringenti. Quindi ritiene che si possano conciliare le diverse visioni, quindi quella è la comunità europea, alle quali siamo vincolati, con il libro bianco e soprattutto alla luce dell'interesse nazionale, quindi strategia cyber che non è più solo security, ma è strategia cyber nazionale, cioè cibernetica nazionale. Come utilizziamo? Facciamo domande, come preferisci? Qualche altra domanda? Io non sono specialista nel momento in questo tipo di parlare, però voglio fare due domande semplici. La prima è questa, l'Europa dovrebbe legislare rispetto a questa cosa, se non c'è l'Italia sia in grado di creare una deliberazione quando le multinazionali sono i più grandi di stati, quindi l'Europa è 7. Abbiamo detto che c'è un problema sul web e che viene ad essere ridotta il numero di agenti, il numero di militari, perché bisogna andare verso la tecnologia. quindi è che c'è il 35 grammi di strada? No, ma vedi, sono un po' l'euro. Giornalista? No, no, no. No. Altre domande? Un'altra non la faccio per me. Un'altra? No, vai, 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 ci divertiamo. Altre domande su questi temi? Senza timidezza, pure curiosità. Te la posso fare? Una domanda. Una domanda, c'è, si è occupato molto, in maniera approfondita, dell'efficienza della legge di riforma del 2007, della quale l'anno scorso sono trascorsi dieci anni. Secondo te, tu qualche passaggio l'hai fatto, però ti pregherai, se ritieni, di approfondire meglio, di su quali aspetti la legge andrebbe modificata. Mi inserisco su questa domanda, il professore, mi aveva fatto un accenno nella parte iniziale del suo discorso, alle due agenzie, l'agenzia per la sicurezza interna e quella della sicurezza esterna. Mi passo di capire che ci sono anche difficoltà a capire i confini, quando un problema è interno, quando un problema è esterno, o quando magari riguarda tutte e due. Ecco, la cosa sarebbe, secondo lei, risolvibile se si cresse una sola agenzia, non due ripartimenti, magari uno per l'esterno, uno per l'interno, ma una sola agenzia. Come in Spagna. Considerato che, ecco, noi siamo comunque un paese che ci coordiniamo molto bene noi forze di polizia, ma siamo tante. Altra domanda? Angelo, prego. Sì. Le volevo chiedere, in base a quello che ha detto anche il professore, cioè quello di portare la cultura dell'intelligence e il metodo dell'intelligence anche nelle scuole, le volevo chiedere se per lei è utopia pensare addirittura alla cultura della sicurezza, così come ha fatto un pochino il New York con la cittadinanza digitale, mantenitura auspicare all'indirizzo dell'intelligence, cioè entrare nei top delle scuole e educare la sicurezza, educare proprio al metodo dell'intelligence. Quindi creare proprio come se fosse una specie di indirizzo per far sì che, diciamo, sin da dagli istituti superiori, si fosse educare non solo ad un'educazione civica digitale, ma soprattutto alla sicurezza e alle nuove tecnologie. Altra domanda? Se non c'è altre domande, vai, vai, vai. A te, vai. Ti faccio anche la te. Il dono Berlano mi ha dato una risposta. Siccome noi abbiamo internet, e siccome tutti i dittatori e i dottori non stanno utilizzando l'informazione e gli strumenti di comunicazione, tutti i dottori Mussolini e Hitler, il prossimo dittatore, Berlano Guerreiro, è stata anarchica, è stata anarchica. Dai, magari inizio a dire qualcosina e poi... Ah no. Certo. Vai. Sembrava strano il professore. Cyber security e internet delle cose. Come tutelare... Ci vorrebbero altre sei ore. No, vado velocissimo e cerco... Anzi, ricordatemi se non rispondo. Allora, vengo alla prima che si intrecciava l'Europa. E' fatto un ragionamento più che condivisibile. E ti dico poi, come dire, una cosa è il dire, è una cosa il farlo. Il dire è il farlo. Quindi, quello che ho fatto io e quello che il governo, e è presente anche nel contratto di governo, è molto sensibile alla materia cibernetica. Non perché è di moda, ma perché ne parliamo da un bel po' di anni. E quindi, proprio all'interno del programma, sono state individuate proprio dei fondi... Quindi, delle spese, dei soldi da destinare all'investimento nella sicurezza cibernetica. Io, personalmente, quello che ho fatto è il fatto di creare una delega specifica, che significa quindi mettere nero su bianco, prima volta in un ministero, che c'è una tematica da affrontare. Ho suggerito, e sto stimolando, perché, come hai ben detto tu, quindi si parla di presidenza del Consiglio, che è lì che poi viene gestito tutto attraverso le agenzie per quanto riguarda quella che è l'architettura governativa, ma è normale che se non parti dal basso le cose non le riesci a fare. Cioè, il ministro della difesa, delega specifica, si inizia a fare un lavoro da oggi. Bisognava partire dieci anni fa, però si inizia a fare un lavoro da oggi. Io sto provando a stimolare, a suggerire ai miei omologhi sottosegretari di altri ministeri di fare la stessa cosa. In particolare, e qui vengo a te parlando di infrastrutture critiche, sono strategici sicuramente il MISE, quindi il Ministero del Sviluppo Economico. Il CIS, bravissimo, bravissimo, il CIS, sì. Ma proprio, diciamo, quelli che vogliono cacciare i soldi, perché io sto sensibilizzando anche per dire, tra un po', c'è la legge finanziaria, la legge del bilancio, iniziate a mettere qualche soldino, perché noi in difesa lo facciamo, voi lo fate, quindi vai al MIT, vai al MISE, vai all'interno, però, esatto, CISR, quindi quello è il focus e bisogna un attimino adesso impegnarsi a mettere veramente dei soldi dentro. E qui vengo a quella che secondo me è la risposta, formazione in formazione, non mi sto, credo mai dirlo, è diffusione della cultura di sicurezza, ma poi si fa con la formazione in formazione, quindi, ed ho un po' intreccio alle domande che mi sono state fatte, compresi i F-35, dei quali ho la delega all'aeronautica, ma data che questa è una palla al piede, rispondo a tutti, intreccio tutte le risposte, viene considerata una palla al piede, per me non lo è, ma prima della pausa estiva, quindi l'ultimo giorno, il 10 agosto era, 10-11 agosto, mi è arrivata la delega specifica, ancora non è stata pubblicata in gazzetta, ma lo sarà presto, su gli F-35, invece ho la delega specifica a trattare gli F-35, quindi, diciamo, questa croce la porto io, ma il concetto è molto sece, non è una croce, qua vengo, nel senso che io la vedo in maniera molto chiara su gli F-35, sicuramente è una tecnologia fortissima, sono aerei di quinta generazione, che fanno poi ricerca informativa, quindi sono dei veri computer volanti, che fanno una grande ricerca informativa, il nocciolo, secondo me la scelta sbagliata di qualche anno fa, che ho ricostruito e parte dal 96, Lamberto Dino, è stata quella di decidere che l'Italia dovesse essere, per quanto riguardava questa tecnologia, a sovranità limitata, cioè, se non ti danno le chiavi sorgenti, l'aereo non parte, ed è un aereo americano, questo che vuol dire? Che sicuramente, come gli amici americani, non saremo mai impegnati in scenari contro, lo vedo impensabile, però io, per far capire spesso alle persone degli equilibri, faccio l'esempio di una grande piazza, dove ci sono 501 persone, uno è l'italiano e 500 sono gli americani, come dimensione di potenza, per cui, se il flusso va in una direzione, tu o segui il flusso, basta che ti giri semplicemente, anche se ti danno delle carezze, sono degli schiaffi, quindi il concetto è questo, quindi non si tratta di alleati, non alleati, no. Quindi il concetto qual era? Gli F-35, noi abbiamo già speso più di 5 miliardi, quindi interrompere e bloccare sarebbe anche da stupido, ormai già abbiamo 10 aerei, sta arrivando l'undicesimo, il dodicesimo, abbiamo fatto una certa programmazione, ma sicuramente quello che si può fare in maniera molto lecita è magari diluire un po' nel tempo quella che è la spesa e destinare magari i fondi alla cyber o altre cose, quindi questo sicuramente è lecito, perché poi vengo all'Europa che deve legiferare anche in altre materie, io ritengo che per quello che è lo scenario attuale e gli ottimi rapporti che si sono instaurati dall'Italia degli Stati Uniti, quindi proprio nelle persone del Presidente Conte e Presidente Trump, noi abbiamo un'occasione unica, perché ormai Trump ha legittimato veramente l'Italia nel mondo e in particolare il Presidente Conte, devo dire, è nata proprio una simpatia personale, quindi c'è un asset molto forte e già gli Stati Uniti hanno detto che ci vogliono dare anche un ruolo di leadership in Libia, è un altro scenario caldissimo, però venendo agli F-35 parliamo, gli americani non è che vedono gli F-35 o altri nomini, per loro è un budget, per cui se tu continui a fare progettazioni e progettazioni, a sviluppare tecnologia con loro, loro sui F-35, su altre cose, poco importa, per cui diciamo che in Italia abbiamo subito molto gli F-35, anche noi nel dibattito, no F-35, che si creano queste nuvoloni, questi nuvoloni che sono praticamente inutili, quindi non ci sta nemmeno tutta questa tensione a gestire il dossier F-35. E dicevo, quello è un altro dossier importante, dicevo che in questo scenario dove abbiamo una forte amicizia più di prima con gli Stati Uniti e uno scenario dove c'è sempre due colossi, perché poi non è più un mondo bipolare, ma le due superpotenze, poi c'è la Cina emergente, ci sono altri paesi, però noi, penso come Italia, se non ci appoggiamo all'Europa, difficilmente riusciremo ad affrontare certe sfide. Appoggiarsi all'Europa significa iniziare delle progettualità e dei programmi di sviluppo, magari anche di aerei di sesta generazione, quindi che andranno a sostituire anche gli F-35, perché tu già adesso ti devi mettere a tavola, ai tavolini, per studiare gli aerei di sesta generazione, già abbiamo iniziato, gli inglesi hanno lanciato il Tempest, il programma Tempest e altri ci stanno pensando, perché ovviamente l'F-35 in soldoni, che cos'è? Per farvi capire, faccio un esempio dell'iPhone, abbiamo lo Startac fino all'aereo di quarta generazione e adesso abbiamo l'iPhone, quindi diciamo il passaggio è totalmente, questa è la grande innovazione degli F-35, che è l'aereo più chiacchierato del mondo, stiamo passando al Motorola Startac, uno, pronto, sì, ciao, ha un iPhone, quindi sicuramente parliamo di una tecnologia super, da qui alla sesta generazione ovviamente sarà sempre meglio, sarà sempre meglio, quello che secondo me dobbiamo fare, l'ho dichiarato proprio la settimana scorsa, è impegnarci su tavoli europei, cioè rafforzare l'Europa, hanno fatto questa sceleratezza di volerci unire con un'unica moneta senza però fare un'unica politica monetaria e abbiamo avuto i danni che abbiamo avuto noi, per non parlare della Grecia e in altre situazioni, dove la Germania, come dire, è forte ma non tanto forte da fare da capofila né tanto debole da non condizionare tante situazioni, io penso che se si lavora su programmi europei si possano creare le basi per un'industria della difesa europea e raggiungere un livello di tecnologia che magari non supererà sicuramente quello dei russi, dei cinesi o degli americani, però unendoci con gli altri paesi, qua bisogna allimare un po' i rapporti in primis con la Francia, con la Germania, la Gran Bretagna, un grande partner, su alcuni settori, noi siamo, lo abbiamo, per concludere se no vado troppo lungo, proprio in questo momento io sto trattando per il governo due importanti atti, uno è stato licenziato con pareri favorevoli, nessuno ha votato contro, mi fa piacere, sul fondo, un fondo europeo per la difesa di 13 miliardi, 8,9 e 4,1, uno per ricerca e sviluppo e un altro per realizzazione, che obbliga delle collaborazioni di tre paesi membri, quindi tre paesi membri che devono sedersi a tavolino, collaborare, quindi li obblighiamo a lavorare per prendere soldi, quindi quando ci sono soldi da prendere tutte le aziende si mettono a lavorare, noi obblighiamo, e così si fa l'Europa secondo me, quindi un'Europa diversa, più forte, ma un'Europa di Paesi Uniti, poi è normale che ogni governo ha i suoi interessi e c'è una sovranità e ognuno ha la sua intelligence che rappresenta quella sovranità incedibile, per cui sicuramente sarà difficile arrivare, se non impossibile, ad un'intelligenza europea, però con l'industria unita della difesa si può rafforzare l'Europa e avere più voce poi come Italia all'interno dell'Europa e nel mondo. F-35 l'ho detto. La 124-2007, le modifiche o solo agenzia? Allora, io ho capito che in Italia abbiamo spesso un sistema malato di informazione, bisogna andarci piano con le parole. Allora, ci ho riflettuto molto, io non userei il termine solo agenzia, anche se è quello il concetto, nel senso storicamente si dice che ci sono due grandi poteri, quello un po' più militare, quello un po' più di polizia interna, che devono stare in mano separate per avere una sorta di garanzia democratica. Io invece ritengo che il Paese sia uno, bisogna avere, come dire, la legge dice giusto che il decisore è il Presidente del Consiglio, anche se poi c'è un'autorità delegata, ma il datore di lavoro è il Presidente del Consiglio, quindi attualmente dell'intelligenza, diciamo il capo, è il Presidente il Professor Giuseppe Conte, e di così ascendere. Quindi c'è, diciamo, un unico capo ci sarebbe, però, ecco, non spaventerei i vecchi romantici o i grandi professori analisti con l'unica agenzia o due agenzie, cioè non è questo il dibattito. Io renderei il comparto, lo chiamo così, il comparto intelligence funzionale. Quindi nella mia testa, quello che più volte ho raccontato, è, diciamo, un rafforzamento del DIS da un punto di vista di analisi e di comando, di comando ai comandi sottostanti, quindi non AIS e AIS e due agenzie, ma dei comandi specializzati, ripeto, in controterrorismo, in spionaggio, in trattazione della minaccia cibernetica, anche offensiva, perché un altro dibattito a livello europeo, molto attuale, è quello, se considerare o meno l'attacco di natura cibernetica, un attacco cinetico o meno, e questo ovviamente cambia tutto, perché poi se subisci un attacco cinetico e dici è stata la Cina, è stata la Russia, gli Stati Uniti partono e attaccano. Ovviamente questo non è ancora possibile per un semplice motivo, perché per quanto ne vogliono raccontare e dire, ad oggi, ad oggi non è ancora attribuibile, quindi c'è l'attribution, tutto il tema dell'attribution di un attacco anonimizzato, non è ancora fattibile, anche se ci si avvicina sempre di più, però più ci si avvicina, più questi bravi cervelloni scendono del deep web e si nascondono a livelli, siamo arrivati al dodicesimo, al tredicesimo, ho perso il conto. Materia di insegnamento, l'ho detto prima, dove si è andato il ragazzo? C'era un ragazzo che aveva chiesto la materia lì. Ah, ecco l'ora, scusami, non ti vedi. L'ho detto prima, per me sfondi una porta aperta. Per me, ripeto, non ho l'esperienza di docente, però dall'asilo la insegnerei. Penso che dobbiamo educarci alla sicurezza, alla sicurezza collettiva. Un'altra cosa importante che finalmente si sta attivando, forse l'ho detto l'anno scorso, ci tengo molto perché è un'idea che ho lanciato io in Italia ad opposizione e adesso la iniziamo a fare, è la scrittura delle nuove norme di progettazione di ingegneristiche, quindi col CNI che ha preso la mano in palla, che significa progettare l'ambiente, quindi non solo dal punto di vista strutturale antisismico, ma anche antiterroristico, per capirci. La Francia qualcosina già l'ha fatto, gli Stati Uniti lo fa. Noi dobbiamo iniziare a fare anche questo che significa progettare l'ambiente in maniera più sicura, quindi facciamo tutte le decorazioni del tipo, però facciamo delle considerazioni oggi, quindi telecamere, sensori, si può progettare l'ambiente a misura d'uomo per renderlo più sicuro e quindi bisogna poi fare formazione in formazione. Per me quella è la prima cosa, formazione in formazione e insegnarlo alla scuola, quindi metodo logico, metodo scientifico per far distinguere più piccoli le fonti e far capire quando ci troviamo davanti a una fake news e quando invece ci troviamo davanti. Cioè, se la televisione dice delle cose, non evito di fare nomi e canali, però se la televisione... o se Angelo Tofoli, se io utilizzo le mie dirette, la mia pagina Facebook, se io sto sulla pagina Facebook di Angelo Tofoli è normale che sicuramente non troverò delle voci che andranno contro Angelo Tofoli. Allora, se io guardo la televisione, leggo un giornale e si raccontano cento cose, chiediamoci pure di chi è il proprietario del giornale, chi è il proprietario della televisione, chi è il caporedattore, chi è l'articolista, perché sapete come funziona. E qui si possono fare belle esercitazioni osint, me le facevano quando studiavo e tu vedevi la differenza tra chi impacchettava l'articolo, chi lo scriveva e a salire fino al capo che poi bastava un articolo, magari il contenuto era anche favorevole a una persona, poi bastava un articolo un po' così e il risultato era diverso. E sulle modifiche ho risposto, il prossimo dittatore web, giusto? Tu che registri, faccio il dittatore, qui no. No, secondo me, come dire, ogni epoca ha i suoi strumenti, quindi dai giroglifici ad internet. Chi sicuramente sa utilizzare meglio gli strumenti, a più voce arriva a un pubblico più vasto, però anzi io credo che proprio quello che è stato fatto, forse tramite libri, tramite le radio, tramite i giornali, tramite le televisioni, difficilmente si può fare con il web, perché è così vasto ed è così bidirezionale. Quindi tu lanci un messaggio, ma se sbagli, se commetti un errore, a me capita, magari faccio un post ogni giorno, ogni due giorni, sbaglio così, non anche una parolina, un articolo, salti nove, ti scappa, dopo tre secondi ci sta chi mi scrive, oh guarda, correggio questa parola, cioè la rete si autoregola e si autocontrolla, quindi arrivare al controllo totale, anche se, attenzione, è dimostrato, e questo devo dire che mi fece una bellissima chiacchierata con Giulia Nassange, un'ambasciata cinque anni fa, o quattro-cinque anni fa, ambasciata Equadoregna a Londra, dove lui mi spiegò proprio in maniera molto dettagliata come i principali, i dieci principali detentori del potere informativo ancora oggi sono quelle multinazionali e colossi che controllano l'informazione a livello mondiale, quindi noi possiamo partire dal giornalino di Soveria fino a salire alle grandi televisioni internazionali e poi ci sono non più di dieci attori che controllano tutta l'informazione a livello mondiale, quindi poi noi abbiamo delle voci più piccole, però ecco, devo dire, ho un caso mio personale dove fui attaccato dall'epoca signor, signor? No, no, all'epoca era il Presidente del Consiglio, no, era signor Matteo Renzi, non era più Presidente del Consiglio, fu attaccato in diretta televisiva sulla 7 da Matteo Renzi, quando poi Presidente era Gentiloni, non era eletto, sicuro è senatore, e raggiunse, la puntata raggiunse un milione e 300 mila persone, io ho fatto una replica con un video dalla mia pagina Facebook, l'ho superato, ho fatto un milione e mezzo, quindi è stata più forte la mia voce, forse l'avvocato nel racconto del risarcimento che mi trovo a dare, è questo, cyber, security, IoT, come tutelare? La risposta sarà banale, è sempre quella, formazione, 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 cioè fin da piccoli, io spero, cioè oggi si parla di, io sono un mezzo nativo digitale come quelli, ho 37 anni, sono un mezzo nativo digitale, all'epoca io facevo, mi esercitavo su quei primi giochi, non so se conosce Travian, Atrico Game, quei giochi, in particolare Travian è un gioco di guerra, è un campione italiano, va a fare i campionati in Sud America, là devi essere proprio appassionato, e attraverso i giochi ci sta chi seleziona, chi seleziona le persone, anche le migliori intelligenze al mondo, utilizzano i videogiochi, io il primo contatto, questo lo dico, tanto ormai siamo al governo, questo nessuno lo sapeva, l'ho rilevato da qualche mese, io il primo contatto con i servizi l'ho avuto per quello che facevo quando ero una matricola universitaria, 17-18 anni fa, non dico per cosa, però no, con positivi, nel senso non perché facevo Maraghella, ero capace di fare cose divertenti, quindi immagino come me e tanti ragazzi, mi ho rilevato un mezzo segreto. Allora abbiamo concluso nel migliore dei modi la seconda edizione della Università d'estate sull'intelligenza e dopo la prima lezione del Presidente del Comitato parlamentare sui servizi, Lorenzo Guerini, che ha illustrato quella che è l'architettura dell'intelligenza nazionale, abbiamo avuto ieri la lezione brillante del colonnello Alessandro Ferrara che ha spiegato come funziona dall'interno il sistema evidenziando quelle che sono sfide, opportunità, minacce e prospettive. Stasera abbiamo concluso con Angelo Tofalo che ha iniziato la sua lezione parlando del controllo parlamentare e evidenziando una evidente asimmetria, mentre l'intelligenza nasce con l'uomo i controlli parlamentari nel nostro Paese durano da appena 40 anni, ma il tema del controllo dei servizi è un problema globale. Quando negli Stati Uniti d'America, agli inizi degli anni Sessanta, cominciano le critiche feroci all'attività della CIA, che sembrava fuori controllo rispetto al Congresso e al Presidente, due giornalisti, Wise e Ross, scrivono un libro che il mio maestro negli studi dell'intelligence, Giorgio Galli, mi segnalò, caro Mario, e il governo invisibile e in cui si evidenziava come la CIA probabilmente avesse superato la parte informativa privilegiando quella operativa e la soluzione che loro proponevano era maggior controllo parlamentare. Il secondo tema che ha affrontato il sottosegretario e l'operatività delle agenzie e a questo tema ha anche risposto alle domande. Superare la separazione tra interno e esterno probabilmente è una necessità, perché non solo interno e esterno sono sempre più labili in una società globalizzata, ma addirittura diventano inesistenti a livello del cyber. E a questo riguardo in Italia potrebbe essere utile un rafforzamento del DIS sui temi dello spionaggio, del controterrorismo e della menacia cibernetica. Tanto più, per quanto riguarda sempre il cyber, che negli Stati Uniti l'attuale Presidente ha annunciato un'armata del cyberspazio, perché questo, e già questo avviene da tempo, è il quinto scenario della guerra, dopo terra, mare, aria e spazio, è proprio il cyberspazio. E anche a questo riguardo il sottosegretario ha avanzato una proposta, dal mio punto di vista, più che condivisibile, cioè la creazione di una NSA italiana, in modo tale da avere uno strumento efficace per fronteggiare la difficoltà e la delicatezza della minaccia. Per quanto riguarda poi l'attualità politica, ha affrontato l'aspetto della gestione della comunicazione di crisi da parte delle aziende, che è stata evidente recentemente per i drammatici fatti legati al Ponte Moranti. Questo poi richiede la necessità e la presenza di operatori specifici. E anche questo, insieme con il data scientist e il data analyst, potrebbe essere un momento di ulteriore nuova formazione, perché c'è necessità di operatori del settore. Poi il sottosegretario si è molto dilungato sul tema della disinformazione e dicendo come i cittadini dovrebbero essere attrezzati per individuare la fonte e poi i contenuti della notizia. Tanto più che in Italia c'è un sistema malato dell'informazione. E per quanto riguarda poi la disinformazione delle agenzie di intelligence, e su questo il professor Giannulli ha scritto un libro interessante e queste possono manipolare le informazioni mettendosi d'accordo magari tra agenzie di diversi paesi. A poi sempre sul tema della disinformazione ha affrontato il concetto dei mass media, evidenziando che la disinformazione e non corre solo su internet, ma interessa tutti i mezzi di comunicazione di massa. Ma ci sono anche a questo riguardo, come evidenziava Noam Chomsky, dei media di elite che vengono, che influenzano poi a cascata tutti gli altri. E poi ci ha ricordato una sua esperienza personale con un colloquio con Julian Assange che ricordava come non saranno più di dieci gli attori che manipolano l'informazione mondiale. Ha poi approfondito il tema dei blockchain, che può essere una tecnologia sicura che potrebbe creare maggiore democrazia all'interno della rete per quanto riguarda gli aspetti economici. Ma ci sono tante questioni aperte, a cominciare dal consumo energetico. Il sottosegretario poi ha parlato dell'intelligenza artificiale e nell'intelligenza artificiale ha ampliato lo spettro, parlando di un'intelligenza artificiale del singolo. Perché noi oggi stiamo assistendo a una duplice ibridazione con le macchine che diventano più intelligenti e le persone che assumono dentro di sé quantità sempre maggiore di tecnologie. Questo potrebbe sconvolgere tutta l'umanità per come l'abbiamo finora conosciuta. Qualche mese fa a Roma ho assistito a un convegno della Federazione Interna degli Editori dove è intervenuto il professore Vatalaro della Università Roma 3 che ha profetizzato che nel 2020 quello sarà l'anno dell'attacco all'uomo. Questo quindi richiede un problema etico fondamentale. Ma su questo c'è un problema politico enorme. Perché mentre le istituzioni democratiche dialogano con grande difficoltà a livello globale, questo non è un problema per le organizzazioni economiche né per le organizzazioni criminali che si muovono con meno farraginosità nel contesto globale. Poi infine ha concluso per quanto riguarda le sue deleghe specifiche. Parlando della necessità di un'industria della difesa europea per gli F-35, a domanda e risposto, abbiamo speso finora più di 5 miliardi di Euro, sono arrivati già 10 aerei, sono in arrivo un altro paio, si può solo diluire nel tempo la spesa e magari utilizzare le risorse che si risparmiano temporaneamente per investimenti nel cyber. Vorrei rilevare un elemento che ha fatto emergere il sottosegretario e cioè tutta la vicenda legata agli F-35 avviene guarda caso durante il governo Dini che secondo alcune ricostruzioni rappresentò un colpo di Stato democratico rispetto a quelle che erano le volontà popolari per come poi si manifestavano allora ed ora. Quindi questo è un elemento di riflessione aggiuntivo su cui tenere alta l'attenzione. Per quanto riguarda poi un'altra delega che è di competenza del sottosegretario Tofolo è quella dell'aeronautica. Ora a questo riguardo, signor sottosegretario, nei miei studi ho affrontato e constatato che le notizie che riguardano gli oggetti volanti non identificati, cioè gli UFO, vengono tutti trattati dall'aeronautica. Quindi a questo riguardo poi magari mi permetto di proporre, di organizzare un convegno oppure una task force che possa affrontare questo tema così suggestivo di UFO marina, UFO intelligence, che è un argomento che io ho trattato anche in alcune pubblicazioni di cui ti farò poi dono. Quindi in definitiva bisogna educare all'intelligence fin dall'asilo. Ci ha anche ricordato che è fondamentale progettare l'ambiente in modo più sicuro attraverso un metodo scientifico e un pensiero logico. Il sottosegretario ha concluso la sua lezione parlando, invocando una grande attenzione verso la Humint, perché più le tecnologie si svilupperanno maggiormente sarà fondamentale il fattore umano. E a questo riguardo voglio ricordare a tutti voi quello che diceva Steve Jobs che prima di morire affermò che darei tutta la tecnologia che possiedo per una serata con Socrate, perché il pensiero verrà sempre prima delle tecnologie. Grazie sottosegretario Tofano. E arrivederci al prossimo anno. Giusto per completare, ho detto tanta roba, mentre raccontavo uno si scorda, anche quello deve dire. Mi sono ricordato adesso che tu hai fatto un ottimo sunto sulle nuove norme di progettazione, che è un altro atto, sono due gli atti, poi mi ero fermato al primo sul fondo dei 13 miliardi, di noi che avevo detto, per la difesa europea. Ci sta un altro atto molto importante che è sempre l'Europa che sto seguendo, è sulla mobilità militare trasfrontaliera, cioè stiamo studiando quelli che sono gli standard dei mezzi, quindi dei mezzi militari a livello europeo, per garantire una mobilità maggiore. Cioè c'è la crisi in Sicilia, dico per dire, il caro armato tedesco deve avere la stessa capacità di arrivare da Berlino a Palermo in un tot di tempo che è la stessa che ci mette il caro armato italiano a arrivare da Palermo a Berlino. E questo è un altro studio abbastanza importante che va sempre in ottica di sinergia dei paesi europei per quanto riguarda la difesa. Non me lo scordate di dire. Grazie per questa bella notizia, quindi concludiamo con la diversità. Grazie a tutti voi per esserci stati. Grazie. 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 Grazie.